Allora, io sono Nicolás D'Amore, sono andato in Argentina, ho iniziato a studiare illusionismo ai 13 anni, in Argentina, poi mi sono trasferito ai Stati Uniti grazie a Gianfrandi, dopo che sono stato là un anno e mezzo circa, tra le altre cose studiando illusionismo con lui, e poi ho lasciato i Stati Uniti per venire a vivere in Italia, dove abito da ormai 7 anni, e ormai ho deciso di restare qua. Allora, in due parole, cosa facciamo stasera? Ora presentiamo quello che in grandi linee è il pensiero scettico, il pensiero cicat, sui fenomeni per anormali, quindi Marco spiega in una vera conferenza fenomeni come telepatia, precognizione, chiaroveggenza, eccetera, ma se esistessero, come si vedrebbero? Allora intervengo io e faccio esperimenti, giochi di castigio, chiarendo che io sto usando palesemente dei trucchi senza farli vedere, ma ci sono persone che non sono così oneste, non sono così chiare, e quindi ingannano la gente, quindi non solo cosa pensiamo noi sul panorormale, ma anche il messaggio di attenzione, perché se noi non sappiamo queste cose, come potrebbero ingannarci altre persone?